quasi gaming stagione 5 la rivoluzione occhio 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 a indiana e noi l'abbiamo data belle per morta co co più di là che di qua e invece attenzione perché hanno fatto delle delle belle chiapite eh il miglior realizzatore della partita quota 20 punti e jordan può ai jordan pull ha giocato addirittura per loro a questo giro è tirato 7 su 13 del campo 9 rimbarsi di bim bum bam ragazzi bim bum bum per la prima volta dato del filo da torcere a isaiah frankenstein 5 assist di pull ma 7 di parcheggiatore abusivo un po di gente con un recupero e a una stoppata c'è branduardi invece noi bisognava un ragionamento è perché è classifica la mano se noi anche oggi put a caso si dovesse perde si rimane primi quindi sempre comunque due estrazioni ci abbiamo per cui quale migliore occasione di questa per provare i granchio patrick beverly attanagliato ai harzoncini di cattivo di batman fin dall'inizio della partita perché questa è una una mossa tatti abito un tentativo un test che ci potrebbe tornare utile ai playoff gli ultimi hanno fatto un test di genere hanno battezzato gellen brown hanno chiamati 50 ma noi non ci facciamo in pentimorire e quindi la vorpe i granchio pare lo zotti berlino e wiggins eccetto e al perenne shangun a completare il quintetto a yeye brazzorf sesto uomo e per sé ovviamente statuario dalla panchina solo 24 minuti peggiori you holiday i maggiori you holiday stai tranquillo che tornerai e poi c'è chiaramente capo plaza che ha spaccato settimana scorsa la partita e poi c'è questi sei minuti che rimangano qui capito con e senza baug così con questo fatto siamo sempre primi e giocano sempre in casa loro c'è ogni palazzetto nostro ci hanno spostato la sagra della pasta asciutta dalle badesse la fanno ogni palazzetto nostro la sagra della pasta asciutta di memphis se bagato wiggins e sai gli è arrivato un messaggio di nulla e qui e qui gli è arrivata una già che viene bene con i problemi personali e io glielo leverei ho detto telefonino perché questo sera un gioca io ve lo dico quest'altro che ragiona ma che ma ma che sta succedendo non siamo concentrati noi per questa partita io ve lo dico un sia vedi eccolo eccolo subito che infierisce ma noi ci sa la vorpe ragazzi si comincia ad avvicinarsi alla fase calda della stagione e oggi cominciano a esserci un sacco di punti in palio la classifica inizia ad essere importante queste sono quelle parti ma scusate ma ho visto male ora voi potete tornare indietro tornate indietro c'era di aaron fox con una maglia e tutti quell'altri con un'altra maglia di di noi coco boh boh ragazzi io ci ne io non lo so qui come può andare la faccenda siamo pronti a giocare noi abbiamo il quintetto inedito o il campo niente po po di meno e il granchio sono molto curioso perché dalle avvisaglie tecniche abbiamo avuto le scorse volte il graglio e si il raglio il granchio è l'antidoto la riptonite di cattivo di batman dice ma la riptonite che la doveva avere super e ma sono amici vanno in europa porta indietro anche loro e quindi voglio vedere se ci abbiamo visto giusto pure no perché questa cosa per i playoff potrebbe diventare interessante siamo pronti a partire loro non so se avete notato ma in quintetto hanno niente po po di meno e paolino banchero voleva andare a giocare con un'altra maglia però poi all'ultimo momento ha scritto su su instagram e per fa contenta la sua mamma ha scelto portland e quindi noi ci si gioca contro forza ragazzi forza granchio io grande fiducia grande scendone scendone stanotte ti hai fatto 45 punti vediamo di cominciare anche qui subito rimbalza un attacco contro banchero i primi due al perenne scendone punto nel vivo occhio a banchero ragazzi perché banchero e sulla carta secondo me qui dovrebbe giocare se conosco un minimo manteniente cinese intanto subito da san giovanni in persiceto il rimbalzo di al perenne scendone siamo a due punti e due rimbarsi si è cominciato bene 2 a 0 ancora la vorpe vuole giocare l'isolamento arriva il blocco di scendone la vorpe col passo e tiro come ghiaccione chiacige però sei arto come un polpaccio di chiacige si gioca bene si gioca non c'è niente da fare si gioca bene siamo attivi ci so la maglia con l'uniposca siamo proprio una squadra di belle e te non ci vorresti avere niente a che fare il cattivo di papo guarda come gli sta accosto l'hai visto come gli è stato addosso l'hai visto che spallata gli ha tirato qui c'è il cambio difensivo accettato si va dall'onzo che attacca contro la vorpe è difficile si è difeso bene se fa canestro lui e bagati joe non ci facciamo impensierire per ora siamo molto sul pezzo in questa partita wiggins riceve nel cuore dell'area si fa vedere anche sengun il granchio cetto tre punti sta indietro banchero battezzato scetto non è una grossissima idea dal punto di vista difensivo loro è a noi ci va bene se cetto tira da tre punti non è proprio sean stoneruc ancora la meno si magari per loro la melo l'onzo in palleggio trovato wise man pei cattivo di batman che comunque ridendo e scherzando ancora non si è preso neanche un tiro eccolo ma io proprio come la chiamo è uno spettacolo ma l'ha sbagliato perché gli ha dato noia e te entra sotto pelle te entra sotto pelle te non sai a un certo punto senti prude un capisci c'hai l'eritema invece il granchio e t'ha fatta allergia fino in fondo la vorpe il 6 a 2 c'è da chiamare il dermatologo il dermatologo perché tenta guardalo guardalo non sa più giocare non ci puoi più avere niente a che fare rimbarzo di banchero attenzione a banchero giocatore tremendo cattivo che è il granchio ma a me mi dà una soddisfazione qui fa addirittura il plemer poi sengun peolmgren il blocco della vorpe non taglia a sengun si torna ancora dalla volpe che attacca difficile chiude il palleggio torna da wiggins poi peolmgren dalla media più difficile di quello di prima sono due i doppio e la metà e si sono ricostretti agli ultimi 10 secondi dell'azione mi si sembra belli cattivi ora ci faranno tre punti però ci va bene in questo modo qui dai blocchi luguenzo a farfalle wiggins rimbarzo della vorpe anche le percentuali ora ci stanno aiutando in questo inizio di partita ancora la vorpe arriva il granchio un paio di scambi nell'angolo ci avrebbe anche la possibilità di tirargli subito da tre punti invece va dentro stavolta letto dalla difesa prevedibile il passaggio però vada come si collassa per riempire l'area sulla mezza transizione siamo proprio una squadra con un'identità capito difensiva ancora wiseman potrebbe ribaltare per il cattivo di batman ma fino a che c'è il granchio non ne vuole sentì parlare ancora il cattivo vada come gli sta a costo questi son tre ha fatto canestro ma se si difende così secondo me fa po' a festa e però ora entra quest'altro eccolo è la sua dai blocchi col fallo si è anche girato come stefan curry e però il risultato non è stato proprio lo stesso attenzione perché se l'è picchiettata o pop gadget braccio la vorpe fino in fondo come bip e bip e c'ha 99 di velocità 10 7 non rivigli mai ora purtroppo repe già sei impossessato della panchina e quindi appena si interrompe il gioco da noi entrano tutte e cinque quelli della panchina forse quattro perché non entra senza baug al perenne shangunne shangunne l'avete giustamente salvato secondo me era finito il ballottaggio con michael robinson e il problema è il problema è che il problema è che proprio da houston il segnale l'antenna in cina non ci arriva e lui non l'ha proprio veramente mai visto nemmeno una volta neanche per sbaglio oh c'abbiamo tutte e tre il terzetto di esterni completamente cambiato con aieie giri uolidei e capo plaza che qui ribarta subito per giri uolidei si fa vedere shangunne olmgren contro banchero un paio di blocchi per provare a liberare qualcuno in uscita capo plaza dal palleggio peppo zimski nell'angolo attenzione aieie che gestisce il primo pallone il blocco il tiro aieie brazzorf mancato di niente sulla prima conclusione però ti voglio più volitivo ti voglio più aggressivo anche dai tre punti questo è gheri trent e anche junior e dal gomito te lo porteresti a scuola wiseman ma proprio poi purmino lo zainetto però purtroppo ogni gioco non è così guarda che capo plaza non fa sconti e non fa prigionieri è una roba è una roba io ero quasi tentato di dargli più minuti però ho paura di rompere l'idillio perché io lo conosco capiteci ne te lo metti titolare e quello da capo plaza capo quadro è un attimo e te non t'accorgi invece ultimi 5 secondi di primo quarto colentoni attacca e gioca due capisce tutto al perenne che poi non vuole rovinare le statistiche neanche giri uolidei e allora io vi piglierei ship e chop e vi metterei a sedere tutte e due e comunque com'è com'è non è siamo avanti 12 11 però per ora è sembrata una partita complessa ora siamo con perseo da 5 capo plaza da 4 mi sembra un quintetto un po spartano capito di quelli proprio belli casarecci mi garbano c'è a yeye che arriva a portare un aiuto sotto per washington a farfalle capo plaza il rimbarzo di pj washington powell ancora 14 secondi freschi ora per i portland trailblazers attacca powell vanno via tutti gli stacca un braccio e giri uolidei bravo rashid e subito perseo e tira giù 12 pari capo a gestire la transizione per la vorpe ci sarebbero qua giù nell'angolo un paio di tiratori vediamo se si innesca il pick and roll è difficile nel traffico ma è un giocatore pazzesco ma com'è che ha fatto 18 punti io non l'ho visti 18 punti della vorpe guarda è una roba che a noi io già lo so ci metterà in difficoltà perché noi o prima o dopo si pesca guardalo guardalo anche di schiena della ruba non ci vuoi avere niente a che fare noi si pescherà o prima o dopo un play magari un gold capito e a quel punto dovrai decidere ma io sarò in difficoltà perché bada e la vorpe gioca bene sodo in questa squadra qui io forse con questi schemi qui comunque te lo cambierei giusto con già morà perché quella è proprio la squadra sua che gli vuoi d'accoppiamento che d'accoppiamento è un po sbagliato però finisce fuori il rimbarso ancora di aieie brazzorf che viene bene per pigliare rimbarsi lunghi 14 12 attacca dentro per capo che poi si butta da una parte coi corpo e coi pallone da quell'altra e ne appoggia due se la ride anche granchio finta di tuffo gli ha fatto pare alla pellegrini anche no la pellegrini non gli faceva i tuffi la cagnota un non so ragazzi un casino con quell'altri sport e kusma dai palleggio per la vorpe c'è perseo che poi chiama alla calma riceve dalla punta un paio di blocchi per liberare capo riceve in questo momento nell'angolo per aieie ultimi sette secondi vediamo se attacca di prima intenzione dentro difficile ma bello il pallone per capo plaza che è progettato per fa sempre canestro che giocatore cattivo che è capo io non gli avrei dato una lira eh ammetto quando l'abbiamo confermato io ho detto questo questo mi farà vedere e invece e invece hai visto 18 12 buona stavolta la difesa di giri holiday arriva capo plaza e gli tira un occhino sono tornati un po di titolari più che altro è tornato wiggins con il granchio che ha ripreso possesso vi vedi qua giù nell'angolo contro il cattivo di batman powell tre punti indietro capo plaza meno tre forza forza due senza paura la vorpe fino in fondo a farfalle la difesa per per seo e si mangia i due più uno ma va bene tilman non ci può avere niente che fa ragazzi maxa via tilman con tutto il rispetto xavier tilman due su due intanto di per seo più 5 non è marvagio è perché poi arrivano tutti quelli dei celtics e mi diano ma te ma lui ma io non è marvagio però insomma non lo puoi fa e invece si l'ha fatto qualche volta gli scappa è normale però se non vado errato siamo a 6 punti che di solito a quest'ora non aveva bella una quindicina o giù di lì olmgren ancora per il granchio che che c'ha una mezza ed è addirittura in faccia il cattivo poi wiggins sale la vorpe catch and shoot da tre punti ancora di aro fox e loro questa soluzione qui ancora non hanno trovata capito capito e prima o dopo lo troveranno anche loro un difensore sulla vorpe ma per ora noi ma ma che cosa il ballo del qua qua john traporta un'altra porta l'avevano rifatto questa cosa qui ma con tutti i sordi e ci spende con tutti i giga di aggiornamento ma veramente ragazzi quando attacano alla guy in cui in modo lì che paiano fred flinston quando gioca a bowling e fa tutti i passettini questo ci ha fistiato sfondamento guarda che questa partita la stiamo ci sta sfuggendo dalle mani occhio a banchero occhio a banchero e viene bene lui da san giovanni ha sempre sognato lui di giocare a san giovanni in persiceto poi gli hanno offerto la maglia dell'nba e allora c'è andato giri holiday vuole giocare uno contro uno attacca va indietro mi suona il telefono boni fermi niente niente te non ce la puoi fare qui c'è la gente che ti rema contro e provano in tutti i modi in tutte le maniere a dati noia ma noi ci sa giri holiday io non lo so però guarda che giri holiday dalla panchina potrebbe essere anche una soluzione tattica boh non lo so ora vediamo luguens dort attacca ancora o pop gadget braccio e poi per poco non gliela porta via bada eccetto è lungo eccetto se non ci fosse wimbanyama sarebbe the most lungo ever e invece qui recupera ancora difensivamente per wiggins che prova a attaccare siamo nell'ultimo minuto di primo tempo si è rialzato la vorpe dalla panchina giri holiday arriva ancora wiggins e però viene ignorato completamente al perenne shangun dai gomito ultimi sei secondi wiggins attacca poi indietreggia step back arresto tiro errore wiseman potrà vedere come rimontano è un peccato perché se questi ora fanno anestro siamo a un possesso di distanza e noi si è giocato meglio di un possesso di distanza fortuna che questi non sanno giocare fortuna o quest'ultimo possesso noi ora la mettiamo in banca money in the banks come adrian e vediamo se la vorpe riesce a costruire è ma un po affrettato voleva i due per uno non c'erano i tempi per i due per uno noi si ha panesso a tutto campo io perdi cervello però c'è il granchio e gli da noia gliela tocca gioatore pazzesco tremendo incredibile guarda e guarda e secondo me questa può essere una di quelle soluzioni ha dato noi anche alla cinese non si è presentata neanche la cinese a questo giro perché sapeva che era il granchio nel nei paraggi capito e ti dava noia fino alla fine 26 20 si riparte vediamo se loro ora proveranno a cavalcare proprio il cattivo ma vada come come ricciola anche difensivamente e poi come si mette a fattaglia fuori so tre di banchero però occhio occhio sul pick and roll il pallone della vorpe per sengun che si porta dietro ogni bene e loro banchero banchero un po si sono rinforzati è inutile inutile fa finta di niente però noi comunque siamo avanti vento no no gli hai fischiato questa cosa qui allora io questa cosa non la faccio mai però però perché non mi ripalesemente non mi riesce però però io ora devo andare a vedere perché te gli hai fischiato della roba che se a me tanto tanto mi riuscisse di capire come si fa a zoomare a de zoomare fammi vedere fammi vedere che cosa gli hai fischiato guarda che cosa gli hai fischiato guarda che cosa gli hai fischiato ti rendi conto di quello che gli hai fischiato carmelo te te ne rendi conto hai visto carmelo hai visto c'è la revoca di fischietto eh te lo levano e ti danni flauto a sonà capisci e tre tiri liberi regalati in questo modo qui io no per di nulla ma eh vedi vedi l'abbiamo evocato abbiamo lanciato il rashid segnale in cielo capito con la lampada in cielo è arrivato ma 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 come gli è venuto via no ha fatto come il gasol però gli è venuto via a presire troppo è troppo lesto e non ci può avere niente che fa ragazzi è una roba e quando si parte in quel modo lì te senti andale andale è arriva arriva ancora banchero piano 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 ma perché perché mai devi andare piano questo è un fenomeno io non so quanto siamo ma secondo me siamo a tanto vediamo se la figlia sui personale il cattivo che prova a attaccare però neanche tira più ormai lui neanche tira più dalla paura che c'ha che gli è entrata addosso occhio perché lo stuzzicato banchero ancora dall'angolo ultimi sei dell'azione sale il cattivo non riceve tre secondi deve forzare ora banchero contro wiggins e dal però è però se si para da una parte ci si scopre da quell'altra ora tocca trovare un difensore da mettere sul banchero perché perché io e di granchi se ne ha uno solo anche perché sennò si faceva la grigliata e sei piccino sei piccino sei attivo è però sei piccino ultimi dieci secondi il cattivo di batman contro il granchio che sta lì con le mani arzate prova a tirare sui blocco lo sbaglia lo sbaglia e lo sbaglia l'ha sbagliato occhio 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 difficile questo pallet ma te gliela hai proprio messa in mano gliela hai proprio messa in mano e loro ora hanno i tiri liberi di pareggio perché noi si è fatto un po di fatica più che altro in attacco siamo stati troppo di aron fox dipendenti ti stai in caponendo ti stai in capo bravo armelo ci dà una mano è devo dire giro i holiday dalla panchina perché quando esce la vorpe almeno sarà qualche d'uno e si può prendere delle responsabilità due su due dalla lunetta più 2 2 40 e ci sarà un cambio di fence ci sarà un mismatch sotto canestro e se tanto tanto loro se ne accorgessero il problema è che non se ne accorgano e allora noi si chiappa tre ma sarà ma sarà sarà realisti a questa cosa qui siamo sotto e tai a provare per forza di ose 34 35 wiggins è difficile pallone in qualche modo filtra dentro per holiday che si guadagna tre due liberi per ora ci sta tenendo a galla lui e capisci capisci powell che con questo è abituato a marcare il cattivo di batman io ti bada e ribada e rigi rio di manate è entrato banchero lì sotto forza ragazzi questa è l'intensità difensiva giusta ancora giri holiday il quarto di campo per giocare contro lonzo poi si va da olmgren nell'angolo per wiggins ora sa poche idee però in attacco ancora holiday arriva sengun ultimi tre secondi deve inventarsi qualche cosa giriu holiday fino in fondo cambia mano si appoggia al tabellone guarda che forse funziona anche meglio perché si senti quintetto in mano quando entra così dalla panchina ma farai odesto in faccia il granchio ma veramente giocatore che giocatore tremendo il granchio nell'angolo per wiggins ultimo minuto del terzo quarto in arrivo attacca wiggins potrebbe chiudere il gioco a due ma perde la maniglia di pallone la recupera e fa come gasol rimbarzo di sengun ora tanti errori da una parte dall'altra ultimi sei dell'azione holiday dentro per wiggins sta sminestrando palloni che pare uno chef stellato e sta per tornare anche capo plaza posso dire ne abbiamo bisogno in questo momento di un po' di fantasia di capo plaza ancora banchero contro holmgren è arto e recupera il possesso 40 35 ultimi 30 secondi attacca giro holiday è finito contro banchero lo sfida al ferro giro holiday o se è piazzato un allungo e io mai avrei pensato in questo momento della partita e poi sengun capisce tutto difensivamente loro sono in palla in questo momento patrick beverly ancora ultimi sei secondi è stato il quarto di giro holiday vediamo se mette anche la zampata finale giro holiday la tripla di più 10 45 35 il quarto di giro holiday la partita di giro holiday o io mai avrei pensato che il fatto di mettere il granchio titolare avrebbe fatto così bene a giro holiday anche a noi alla difesa il granchio bene però bene bene così 45 35 la vorpe arresto tiro dentro e fuori rimbarzo di washington ora non la diamo per finita è questa partita perché c'è tutto l'ultimo quarto noi si viene bene a pigliare le imbarcate colentoni salgono a portagli blocco attacca ancora sulla linea di fondo gli viene via in qualche modo difficile 2 meno 8 tornato anche agli e io proverei a cavalcarlo anche un pochino perché non si sa mica mai difficile sto pallone dentro la vorpe questo questo viaggio in panchina della vorpe l'ha messo fuori fase per il finale di partita po zimski però che difende forte contro bain e recupera il possesso in assenza di granchio ci pensa a yeghe ancora la vorpe 15 secondi nell'azione sale per seo ci sarebbe capo plaza da quell'altra parte arriva riceve ultimi 8 fino in fondo avvo guadagna due tiri liberi è un giocatore attivissimo sa proprio tutti gli interpreti giusti al posto giusto vabbè niente dai poi di niente occhio a colentoni occhio a colentoni e se messo in ritmo sale anche per seo ultimi 6 dell'azione nell'angolo per bain su di lui c'è giri holiday riapre ancora per colentoni difficile sbagliato olmgren piano 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 ragazzi non ci sia bisogno di affrettare i tempi siamo avanti bene ultimi 4 minuti in arrivo sale capo attacca contro powell poi c'è olmgren che gli porta un blocco capo dai palleggio poppa olmgren che riceve perde l'attimo per prendersi il tiro lo tira uguale contro il cattivo sbaglia rimbalzo dei portland trailblazers questa partita non è finita attacca powell nell'angolo anthony washington sale il cattivo io rimetterei granchio wiseman dai gomito contro per seo per colentoni tre punti partita riaperta ci vuole più lucidità in questi attacchi ragazzi ultimamente siamo rimasti tutti fermi si svita si gira si appoggia e sbaglia capo plaza 46 40 stanno per arrivare gli ultimi tre minuti della partita powell contro lo stesso capo plaza 14 nell'azione attacca scarica tre punti bain sbaglia gli è entrato in gicini cervello lui ormai non ragiona più il canestro non lo vede più perché c'è il granchio vedi granchi anche dove non ci so come come il coso quando vedeva i pipistrelli beh vabbè insomma tre minuti olmgren ancora nell'angolo pe holiday ultimi sei dell'azione vediamo se giri holiday si prende ancora la scena tre punti giri holiday comunque ha fatto una partita allucinante ha fatto una io penso che comunque di aaron fox abbia più punti di lui ma guarda se noi si vince c'è la finta giri holiday a questo giro banchero attacca contro olmgren stavolta guadagna benissimo spazio lo porta in fondo però olmgren è lunghissimo e in qualche modo recupera il possesso 49 40 wiggins prova attaccare la linea di fondo chiusa bene dalla difesa si torna da olmgren 2 30 alla fine della partita sengun pei granchio ci sarebbe la vorpe non riceve ultimi sei dell'azione olmgren il blocco attacca il granchio poppa olmgren si prende la responsabilità il granchio ma sbaglia non è finita so tre possessi due minuti e spiccioli lo chiude benissimo la vorpe ancora dentro pe d'hort che fa come gasol piani ragazzi piani non c'è bisogno di affrettare la vorpe dei granchio contro banchero arriva anche wiggins per chiuderla tre punti andrew wiggins non si vuole vince questa partita in punti modi rimbalzo di lonzo ball poi per banchero ora però il tempo stringe per i trailblazers vediamo se forzerà ancora da sa è ma è buono è buono e c'è po da fa ora bisogna fa canestro organizziamoci in qualche modo ma bisogna fa canestro la vorpe contro lonzo ball arriva olmgren attacca ancora di aaron fox arresto passo tiro due e forse la chiude che giocatore che giocatore anche nei momenti importanti della partita ragazzi e questi ha però hanno fatto un acquisto mia da ride con questo poi noi si era pescato l'anno scorso banchero una teneva a mano io va bene tutto e che ha fatto la stagione da rughi per carità però insomma la vorpe ancora dentro per senguna ha segnato il primo canestro e poi più vuole attaccare contro wiseman ultimi sei dell'azione tutti fermi niente di costruito la vorpe tre punti importante col fallo come rimas kauhenas e giustamente con lo show offensivo di giri holiday lui aveva bisogno di riprendersi la scena e qui olmgren con rimbalzo sul libero sbagliato la chiude definitivamente una partita di una maturità incredibile anche se qui sengun va a farfalle bravi 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 non ho molto altro da dire per ora si stanno interpretando molto bene queste partite di questa fase la vorpe fino in fondo ma questo quanto ha fatto 50 punti a questo giro comunque con questa vittoria noi ora si comincia allungare capito manca ancora parecchio ci sono tanti punti in palio però 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 capito si sono tenuti a 47 semplicemente spostando il granchio su quello lì non l'hai fatto più il fenomeno è come facevi fino a settimana erano buoni tutti a fare il fenomeno quando non ci avevi addosso il granchio fallo sui granchio hashtag e comunque hanno tirato bene perché quest'anno io non ho mai visto una squadra che tira male né che vinca né che perda per cui il miglior realizzatore della partita quota 22 punti è di aaron fox 10 su 14 dal campo n'ha messi però 17 oliday con 5 su 6 e 17 anche banchero da quell'altra parte tanto per gradire 7 rimbarsi di olmgren nella partita 3 assist di sengun che si è visto poco ma ha lavorato per la squadra un po di gente con due recuperi la vorpe e sengun e addirittura tre stoppate di chet olmgren e con questa vittoria qui siamo arrivati a 170 che comunque buttali via perché 50 punti di vantaggio significa che se anche perdiamo le prossime due si rimane comunque primi chiaramente non bisogna dire a verde perché poi il campionato va avanti e ci sono sempre più punti in palio però intanto è una garanzia indiana a pari merito 108 a 108 con phoenix per palmarès si era detto così a inizio stagione 1 2 3 4 passa avanti e quindi va in terza posizione per cui non cambiano gli accoppiamenti ma phoenix giocherà in casa la prossima settimana regge il cattivo di batman nei punti ma attenzione perché la vorpe è lì 8 a 7 nei rimbarsi stoppate mvp non cambia nulla neanche da quest'altra parte però noi zitti zitti ci abbiamo di aaron fox che è lì in seconda posizione per gli mvp molto distante però tanto qui conta anche la squadra che vince il campionato per cui vuol di poco e poi dietro c'è chet olmgren sona anche il telefono ma la cosa interessante è che con una matrice fatta ormai da settimana scorsa di soli silver noi oggi gold ovviamente noi oggi abbiamo due estrazioni quanto male mi fa quanto male mi fa perché io questo lo vorrei tanto è un ciò chi dà via per pigliare questo ora io mi verrebbe da dire una cosa che quelli che seguono il canale da più tempo forse sanno dunque dopo c'è da fare dei ragionamenti c'è da fare dei grossi ragionamenti ma rimandiamoli perché qui la situazione si fa trita e sta a portland tre estrazioni e ora vi voglio vedere e tra l'altro noi settimana prossima si giova contro di loro questi io ti giuro che loro lo tengano e ragazzi purtroppo io penso che si siano riallineati i pianeti e quindi noi si tornerà a giocare contro Wendelka che che è proprio la morte sua cioè la morte mia nello specifio ma ma chi sta ora sta indiana quattro estrazioni e questo questo ci remerà contro io già lo so che lui ci remerà contro per forza dente avvelenato loro secondo me Jamal Murray lo tengano per forza per forza di ose Eeeh, eeeh, cinque estrazioni Phoenix. Allora, qui è cambiato il mondo, praticamente, perché loro hanno fatto una copiata il cattivo di Batman e il cattivo a priori, a prescindere, perché, cioè, questi hanno una squadra, questi hanno una squadra che è proprio, cioè, bah, i pantorchi qui, vabbè, eeeh, però anche questi altri sono tutti rinforzati, guarda che Indiana, con Murray, Adebayo e Evan Mobley, sono tremendi, eh, cioè, lascia fa' che questi per i playoff ci devi avere a che fare, e con i vari rimestamenti di giocatori, col fatto che, per tenere Jamal Marra, Indiana, ha liberato Jordan Poole, noi abbiamo il leader della classifica di assist, che è il granchio, perché è rimasto il solo a quota 4, invece, una squadra. Quindi tante cose sono cambiate, tra cui anche noi. Io, allora, prima di questa partita qui, io ve l'avrei aperto, il sondaggio, Anferni Simons, Jerry Uoliday, però, con questo fatto di mettere il granchio guardia titolare, Holiday dalla panchina, che si prende le responsabilità quando non c'è Fox, io, io so a Pettinello, Jerry Uoliday, e quindi rinunciare a Anferni Simons. Viceversa, viceversa, io Hatte lo voglio provare. Poi, magari, mi rendo conto che mi rema contro, perché, perché lo so, perché, però io Hatte lo voglio provare. Quindi, vi aprirò, lui lo teniamo, e vi aprirò un sondaggio. Sengun, Kuzma, Wiggins, anche, ci metto, perché, nel caso in cui eliminaste Wiggins, noi si potrebbe tenere Sengun da centro, Katte dalla grande, e sfruttare la piccola di Kuzma per tenere anche Kuzma. Quindi io ce li metto tutte e tre, e vi faccio, vi faccio, semplicemente, decidere a voi. Vediamo, vediamo, perché dalla settimana prossima ci sono 23 punti in palio, e quindi la questione si fa interessante, anche perché i Gord, secondo me, è sempre più vicino. Oggi è uscito un 88 e un 85, è roba, manca poco. Grazie. 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 Grazie.